8 Alimenti per rigenerare il fegato e perdere peso in 30 giorni Il fegato è uno degli organi più importanti quando si tratta di perdere peso. Nonostante sia lo stomaco ad avere il compito di digerire grassi, non possiamo dimenticare che, nonostante questo delicato e complesso compito venga portato a termine nel migliore dei modi, abbiamo bisogno dell'aiuto del fegato e della colecistia affinché la bile svolga tale processo. Se il fegato non funziona in maniera ottimale, il grasso non viene digerito né eliminato a dovere, rallentando il metabolismo e saturano di tossine l'organismo. È bene ricordare, dunque, che un fegato sano è sinonimo di salute e benessere. Per ottenerlo, per prenderci cura dell'organo più grande del nostro corpo, dobbiamo mangiare in modo corretto e prenderci cura delle nostre abitudini quotidiane. Oggi nel nostro spazio vi proponiamo un piccolo programma da mettere in pratica. Vi invitiamo ad includere 8 alimenti nella vostra dieta, affinché, poco a poco, possiate notare dei risultati. Se, inoltre, seguirete un'alimentazione povera di grassi, farete attività fisica e metterete da parte le abitudini nocive come il tabacco, in 30 giorni potrete notare buoni risultati. 1. Uno spicchio d'aglio a digiuno. Assumere uno spicchio d'aglio a digiuno è un rimedio classico della medicina naturale. Ebbene, tutti sappiamo che non è facile mettere in pratica questa abitudine, il suo sapore non è piacevole e causa alito cattivo. Per evitare il problema dell'alito cattivo, vi consigliamo di masticare un po' di menta fresca. Nonostante questo piccolo inconveniente, se volete ottimizzare la funzione del fegato e perdere peso, vi consigliamo di mangiare uno spicchio d'aglio a digiuno tutte le mattine. Il suo apporto di allicina e selenio è ideale per aiutare il fegato a depurarsi e rigenerarsi. 2. Un pompelmo biologico al giorno. Il pompelmo è un frutto favoloso per la salute epatica. Il suo elevato contenuto di vitamina C e antiossidanti favorisce le naturali funzioni del fegato. Sarebbe consigliabile che a colazione non mancasse una bella spremuta di pompelmo, i sistemi immunitario e digerente ve ne saranno grati. 3. Caffè o tè verde. Potete bere a colazione un tè verde o un caffè, sempre facendo attenzione all'edulcorante che aggiungete a queste bevande, le migliori opzioni sono il miele o la stevia. Sia il tè che il caffè sono ricchi di antiossidanti come le catechine e i polifenoli, ottimi per la cura del fegato. Ciò nonostante, ricordate di non eccedere nel consumo di queste bevande, le giuste quantità sono responsabili dei loro benefici. 4. Sia l'avocado. L'avocado è un alimento che consigliamo spesso nei nostri articoli. I suoi acidi grassi omega 3 si prendono cura della salute cardiaca. Inoltre, favoriscono la produzione di glutatione da parte del fegato, un composto che ci aiuta ad eliminare grassi e tossine. 5. Grano saraceno. Potete trovare il grano saraceno nei negozi di prodotti naturali, in erboristeria o negli scaffali del supermercato dedicati al bio e al cibo sano. A partire da questo prodotto potete preparare il pane o dei dolci. Vi farà piacere sapere che il grano saraceno regola il metabolismo, grazie all'inosinato, un composto che agisce come protettore epatico e che aiuta a processare alcuni ormoni. Permette anche di depurarsi dalle tossine contenute nei medicinali e nel glucosio. Inoltre, è uno dei tipi di grano più nutritivi, ricco di proteine e amminoacidi essenziali che ci aiutano ad avere abbastanza energie e a godere di una salute ferrea. 6. Carciofi. Adoriamo i carciofi. Ottima cena è per prendersi cura del proprio peso. A partire da questo momento ricordate che non possono mancare nelle vostre diete, perché non solo si prendono cura del fegato, ma favoriscono anche la salute del pancreas. I loro enzimi naturali rigenerano, proteggono e favoriscono tutti i processi associati alla digestione dei grassi. Vale la pena tenerne conto e godersi tutti i loro benefici varie volte alla settimana. 7. La curcuma. La curcuma è la spezia preferita dal fegato. Se ci abituiamo ad aggiungerla a risotti, piatti a base di carne magra o anche alle nostre tisane con un po' di miele, otterremo un rimedio disintossicante per il fegato. È antinfiammatoria, una spezia dorata che, grazie alla sua tonalità, ci fa capire che è ricca di antiossidanti e proprietà per l'organismo. 8. Rimedio a base di barbabietola Uva e uva passa per il fegato. Questa bevanda medicinale favorisce la salute del fegato, aiuta a perdere peso e ad ottenere vitamine, minerali e antiossidanti. Ecco come prepararla. Ingredienti. 2 bicchieri e 1 barra 2 di acqua. 625 ml. 2 tazze e 1 barra 2 di barbabietola. 300 g. 1 barra 2 tazza di uva passa. 65 g. Il succo di 2 limoni. Utensili. Tazze recipiente. Spremi agrumi. Pentolino frullatore. Preparazione. Fate bollire l'acqua. Tagliate la barbabietola a pezzi. Una volta che giunge ad ebollizione, ritirate l'acqua dal fuoco. Aggiungete l'uva passa e la barbabietola, poi coprite il pentolino e, infine, fate raffreddare il preparato per 45 minuti. Successivamente, versate tutto nel frullatore e frullate fino ad ottenere una crema omogenea. Spremete limoni ed aggiungete il succo alla preparazione. Mescolate. Una volta pronto, bevete questo rimedio per 5 giorni di seguito, di mattina. È sufficiente un bicchiere.